Oggi vi parlo di questo prodotto davvero fantastico, Imetec Cucco, la cookie machine che cucina per voi i buonissimi piatti della cucina italiana, così buoni che riceverete i complimenti da tutti. Guardate quanti piatti potete preparare con Cucco, con una facilità e velocità inimmaginabili e sempre con ottimi risultati. Cucco cucina da solo ottimi risotti, paste e vellutate, grazie ai tre esclusivi programmi automatici. Con il programma automatico Cucco cucina da solo, perché la temperatura, il tempo e la velocità sono già preimpostati affinché voi non dobbiate fare nulla e avere sempre un risultato da chef. Basta selezionare il programma per i risotti, per le paste o per le vellutate e inserire gli ingredienti quando Cucco lo richiede. A tutto il resto pensa lui e vi avvisa quando il piatto è pronto, così mentre lui lavora voi vi potete dedicare a ciò che più vi piace. Con il suo ricchissimo ricettario, Cucco vi guida passo passo nella preparazione di menù completi. Aperitivi, antipasti, salse, primi e secondi piatti, contorni e dolci. Tutto questo senza sporcare nemmeno una pentola. Voi dovete solo scegliere la ricetta, impostare il tempo, la velocità e la temperatura indicati e seguire le indicazioni di Cucco. Lui svolge tutte le lavorazioni necessarie fino alla cottura e vi avvisa quando ha finito. Potete scegliere tra ben 100 ricette e gustare i piatti sempre diversi. Il ricettario è molto semplice da seguire. Spiega nel dettaglio tutti i passaggi e svela i piccoli segreti dello chef per ottenere un ottimo risultato al primo colpo. Ovviamente senza dimenticare gli utili consigli per l'impiattamento. Imete Cucco è veramente capace di fare tutto. Cuoce, soffrigge, bolle, mescola, cuoce a vapore, emulsiona, frulla, trita, amalgama e impasta torte. Tutto all'interno di questa boccia e utilizzando questi accessori. La pala mescolatrice, la lama in acciaio inox, la lama seghettata trita ghiaccio, l'utilissima spatola e il cestello per la cottura a vapore. Da questo momento in poi in cucina non vi servirà altro. Cucco di Imetech cucina per te ogni giorno i buoni piatti della cucina italiana.